buongiorno 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 allora ieri abbiamo concluso con la trippa stamattina apriamo con la genovese e adesso vi faccio vedere pian piano sono vari piani molte sono già ordinate come sempre qualcuna ce n'è ancora chi vuole la genovese non perda tempo eccola qua salto veloce in banco iniziamo subito con la nostra tagliata come ogni mattina fresca con rucola e pomodorini la costoletta di maiale perugino appena affettata oggi è giovedì ma sono arrivati di nuovo ogni hamburger di chiarina perché comunque siamo a metà maggio e comunque le diete incombono ospedino di carne bianca inutile che ve lo dico magro dietetico e gustoso proseguiamo con un gigione già un po è tornato il sole e quindi a mezza manica a distorsare i pezzi guardate il controsenso che servono per il brodo perché ancora oggi ci chiedono il brodo ed eccola qua vedete questa e la corazza